E' la mattina del 2 agosto 1980, sono le 10.25. All'improvviso, l'intera sala d'aspetto di seconda classe, il ristorante, il bar, tutta l'ala sinistra della stazione di Bologna, si alza e ricade su se stessa. Cerchiamo di capire qualche cosa su questo incidente, la cosa è ancora piuttosto generica. Cerchiamo di fare un primo bilancio, anche se per adesso non si sa nulla per quel che riguarda il numero delle vittime e non si sa nulla nemmeno dei feriti. Comunque sentiamo intanto con il signor Marcuso che era presente nell'ingresso vicino alla edicola della stazione, che cosa è successo? È successo che a un certo punto è avvoluta una grande esplosione. Ma lei cosa ne pensa di questa ipotesi diversa dalla bomba? Non lo so, per me sembra un'ipotesi diversa dalla bomba, anche l'ho rilevato, sono tornato adesso a vedere meglio, mi sembra quasi, sento anche dire intorno, non lo so di preciso, ma sembra che quasi fosse scorosa una caldaia, non so. Ma lì per lì non si sapeva se era un aero caduto sopra, se cosa fosse, ma poi l'odore della polvere da sparo si è sentita. Ah, l'odore della polvere? Sì, è nel modo più assoluto. Quindi insomma la caldaia secondo lei? No, 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 non c'è tre caldaie, qui niente, questo è un attentato, belle prove. È stata una bomba, 23 kg di esplosivo nascosti dentro una valigia messa sul tavolino portabagagli della sala d'aspetto di seconda classe.